Alessia Natali dell'associazione Penelope Abruzzo, lei è la presidente, sta dando il suo supporto, il supporto dell'associazione ai familiari di Milena. La novità di oggi è che c'è un'indagine in corso per sequestro di persona? Sì, allora, noi stiamo dando supporto alla famiglia di Milena già dai giorni successivi alla scomparsa. Il nostro tipo di supporto ovviamente, oltre che essere empatico, è anche un supporto a livello legale, tant'è che oggi è intervenuto e è venuto qui a Casalbordino anche il nostro avvocato Antonio Cozza. La novità di oggi è che comunque è stato aperto dalla procura un fascicolo, non più come allontanamento volontario, ma per sequestro di persona. Questo è anche un atto dovuto, se vogliamo, perché comunque si indaga a 360 gradi, quindi nessuna segnalazione viene lasciata non controllata e nessuna pista viene lasciata scoperta. Diciamo, vengono verificate tutte le piste. Sì, esatto, tutte le piste. Allora, c'è stato un sopralluogo delle forze dell'ordine oggi pomeriggio, nella casa o nella palestra? Allora, c'è stato, perché anche questo ovviamente è un atto dovuto, devono controllare tutto quello che riguarda la vita personale di Milena, che al momento ci risulta essere una vita decisa, ma questo ha detto sia dei familiari che delle persone che la conoscevano, una vita molto tranquilla, non aveva problemi di nessuna tipologia, né economico né psicologico, stava vivendo un periodo molto sereno. Ecco, detto questo, voi avete ricevuto nei giorni scorsi anche delle segnalazioni che riguardavano la zona di Vasto, dove adesso, da questo pomeriggio, si sta cercando, oltre che qui a Casalbordino. Avete ricevuto altre segnalazioni in questo senso? Allora, al momento adesso un'altra segnalazione. Quelle che ci sono arrivate sono state da me stessa prontamente passate al commissariato di Lanciano e ai Vigili del Fuoco. Ovviamente si sta verificando anche in tal senso quali sono gli esiti di queste segnalazioni.